Adesso si seguirà un intervento che rispetto a quello che non c'è, un maletto delle ragazze di Renato. Renato, relato, relato, diretti come si è impressionato, Renato, relato, relato, ed un comune non viene più. Renato, relato, relato, e quante volte ci hai convocato, Renato, relato, relato, provando sempre nel mio conto. Come sono un cedificente come te che funziona e fa le cose che per me, se l'acqua ha deciso non fosse farla sì, io non sarei ritorno a così. Renato, relato, relato, così carino, così educato, Renato, relato, relato, ci può fermare con terezza. Come sono un cedificente come te, l'appuntamento chiede, la stagione a te, se tutti ti si scappano a tutti i mani, ti sei spiegare, gli amanti a capire. Renato, relato, relato, diretti come le pubbliche programmate, oh, oh, Renato, relato, relato, dall'acqua è felicità. Come sono un cedificente come le pubbliche programmate, oh, 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 Se tu ti pensi di me rimanere qui, io lo sarei ridotta così. Renato, 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 è la piattura che ti ho cantato. Oh, oh, Renato, 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 come faremo senza dirte. Grazie.